Altri due ragazzi, intorno al 1770, avevano inseguito lo stesso sogno di Mohamed Judit. Sir John era arrivato in America con la nostra nave, dall'Olanda. Durante una battuta di caccia aveva incontrato, per caso, Raggio Felice, un'indiana nativa della tribù dei Cavalli Liberi. Quest'ultima si era persa nel bosco, mentre cercava le bacche magiche, quelle per invecchiare precocemente. E lui se ne era perdutamente innamorato. Va da sé che provassero a scappare dalla furia e dalle guerre di conquista degli europei sui nativi americani, per poter vivere il loro grande amore. Per qualche tempo furono anche sereni, felici e suri, nascondendosi in accampamenti di fortuna, ma avevano poi finito per essere uccisi, ammancato nel Minnesota, da un plotone suddista giunto per caso in ricognizione. Quello che per fortuna era sopravvissuto a quell'ennesimo orrore, era il figlio appena nato, Camon, che avevano nascosto in una cesta di vimini vicino a un fiume e salvato per caso da una dolce governante bianca. Amore. 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 Amore.